Di Piero giunta. Dopo la bella vittoria di venerdì scorso contro l'Orsa Bernalda Fuzzol, l'Arcobaleno ritorna in campo oggi per recuperare la gara della quarta giornata di andata contro il Bovalino C5. I ragazzi spicesi attraverseranno lo stretto e andranno alla conquista dei tre punti in terra calabra. Una gara alla portata dei ragazzi del presidente Angelo Galifi che vincendo lascerebbero l'ultimo posto e sorpasserebbero proprio il Bovalino. La squadra allenata da Mr. Marcelo Mittelman, come detto prima, arriva a questo appuntamento forte della vittoria di venerdì e con l'organico al completo. La squadra calabrese invece sabato scorso ha perso la partita interna contro il Gersi Azz di Piazza Armerina. Dunque appuntamento oggi alle 16 per i tanti tifosi dell'Arcobaleno che sicuramente saranno incollati ai telefonini, tablet e computer per assistere alla partita e tifare Arcobaleno. Il primo arbitro di Bovalino C5, Arcobaleno Ispica, sarà il signor Antonio Dan Campanella e il secondo arbitro sarà Raffaele Buonocore, mentre il crono sarà Andrea De Luca.